Buon pomeriggio, ben ritrovati, grazie di questa opportunità che un po' mi sorprende, nel senso che la domanda che io mi faccio è, per il lavoro che io faccio, sono uno scrittore, mi occupo di letteratura, cosa centro io con l'oggetto dei lavori e delle comunicazioni di questo pomeriggio? Cosa c'entra uno scrittore, cosa c'entra la letteratura con il mondo del digitale? Ora, il consesso in cui adesso sto parlando, a cui mi rivolgo è troppo intelligente, troppo nobile per perdermi nelle trite considerazioni sul dibattito tra la priorità dell'analogico rispetto al digitale o sui cliché del fatto che il significante digitale debba essere riempito da un significato semantico e letterario. Le sappiamo, queste cose. Ecco, quello che mi interessa è un'altra cosa. Mi interessa raccogliere un paio di provocazioni intelligenti, naturalmente contenute nel saluto iniziale della vicepresidente del Senato, Anna Scani, che ringraziamo e che ringrazio personalmente, naturalmente. Quando lei, per esempio, diceva questa cosa, che lo scopo di tutte le azioni che gli agenti educativi mettono in campo per il miglioramento del sistema educativo non solo italiano ma europeo, deve essere anzitutto garantire a tutti il diritto a un'istruzione di qualità. Ecco, in che cosa consiste la qualità dell'istruzione? Consiste soltanto nel ridurre il digital divide? Consiste nel rendere democratico l'accesso agli strumenti digitali? Io trovo che questo sia troppo poco. Cioè, la qualità dell'istruzione qui sì che risiede nei contenuti e risiede nella nobiltà delle pagine che poi vanno a riempire di contenuto i linguaggi digitali. Per cui la letteratura può dire qualcosa. E un altro aspetto che l'onorevole Ascani sottolineava è questo, cioè il fatto che la scuola e che gli agenti educativi possano dare una risposta vera del sistema educativo ai bisogni veri che i nostri studenti, i nostri ragazzi portano con sé. Ora, io mi domando quali siano i bisogni veri. Sono il bisogno di essere riconosciuti nella loro identità di genere? Naturalmente. È il bisogno di essere riconosciuti nella loro... nella nobiltà della cultura di cui sono portatori? Naturalmente. Naturalmente c'è il bisogno da parte delle studentesse di appianare questa forbice che ogni tanto le vede un po' subalterne rispetto agli studenti maschi. Ma non è solo quello. Hanno bisogno di diventare scrittori a scuola. Ma no, ma nessuno studente impara a diventare scrittore a scuola. Hanno bisogno di diventare scienziati a scuola. Più grandi, quando saranno a scuola, nell'età scolare per la quale noi adesso stiamo lavorando e alla quale noi ci riferiamo, i nostri studenti hanno bisogno di diventare uomini e donne. Hanno bisogno che la scuola dia loro solidi strumenti per parlare al loro presente e al loro futuro. E qui certo che c'entra la strumentazione digitale, ma che la scuola dia loro solide radici per evitare che questi strumenti così proiettati verso l'alto e verso il futuro crollino di fronte a quelle che sono le domande fondamentali della vita. Che non è come sviluppare un'app, che non sono come che cosa pubblicare sui social, ma che sono le domande relative alle questioni radicali. Che sono le ragioni dell'esistenza, la vita, il dolore, la morte, l'amore. Ecco, l'amore soprattutto. Uno delle domande, uno dei disagi che più spesso i nostri studenti portano con sé è questo. Perché la scuola non riesce a insegnarci ad amare davvero? Perché i nostri coetanei, perché noi giovani ogni tanto che abbiamo vittime di comportamenti sbagliati, che cosa può fare la scuola per educarci all'amore? Ecco, la scuola educa la matematica. Sì, la scuola insegna la letteratura, certo. La scuola insegna fisica, ma naturalmente insegna le lingue. Sì, la scuola educa all'amore. A cosa serve la letteratura di cui noi parliamo a scuola se non a questo? Se non a educare al pensiero critico e se non a far crescere uomini e donne maturi, capaci come hanno fatto i poeti prima di noi di usare parole delicate, a volte anche severe, a volte anche brutali, capaci di capire che l'amore è talmente sfaccettato, talmente kaleidoscopico, che può passare dalla tenerezza più calda alla violenza anche più brutale. Dentro questa enorme gamma di comportamenti umani, la scuola che cosa può fare? Come può prevenire alcuni fenomeni di abuso, naturalmente? Come può prevenire e combattere molti stereotipi di genere o di comportamento? Quando ci siamo incontrati con gli amici di Dicalter e con il dottor Merinucci, che io ringrazio sempre per avermi coinvolto in questo progetto, loro erano molto interessati all'oggetto dei miei studi e a quello a cui io stavo lavorando ultimamente, che era tentare di capire attraverso un percorso sincronico, attraverso la storia della letteratura, come i grandi poeti e i grandi scrittori avessero parlato e trattato l'amore, in tutte le sue sfaccettature molteplici, alcune volte anche disturbanti, di cui vi parlavo prima. Allora abbiamo pensato, a partire da un mio saggio, ma a partire dalle opere che quotidianamente, non solo in Italia, naturalmente, cioè in tutte le scuole europee i colleghi di lettere propongono ai loro studenti, abbiamo pensato di partire da queste opere, penso a Dante Leghieri, pensate al Canto Quinto dell'Inferno, l'amore travagliato e tragico tra Francesca e Paolo, pensate ai capitoli dei Promessi Sposi, con l'amore anche qui, travagliato, avventuroso, però cupo, triste, di Gertrude, la monaca di Monza, o di Lucia, concupita, molto più fisicamente di quanto non si creda Don Rodrigo, pensate a Rosso il Nero, è una storia di delitti, pensate a Casa di Bambola di Ibsen, è una storia di prevaricazione, di violenza economica, di violenza morale, psicologica nei confronti di una moglie, pensate alla bisbettica domata di Shakespeare, che poi alla fine si tratterà di capire chi davvero vince tra lei e lui. Ecco, pensate a Tentazione, quella novella stragnante di Verga, alcune pagine di Pirandello, alcune pagine di Margaret Atwood, per dire di Dacia Maraini, per dire di scrittori e scrittrici più vicini a noi. Ecco, abbiamo pensato di proporre agli studenti, alle studentesse, di chiedere loro di lavorare su queste pagine, naturalmente di lavorare attraverso le enormi potenzialità fornite dal digitale, per cui noi attiveremo un'azione con queste classi che vorranno aderire, in cui a partire da queste pagine della letteratura verrà chiesto loro, verrà proposto, verranno affiancati nella creazione di prodotti, quelli che a scuola si chiamano prodotti di realtà o prodotti finali di unità di apprendimento, ma adesso questi sono tecnicismi che a voi non interessano, neanche a me interessano adesso, quello che ci interessa è il contenuto, cioè osare, riuscire ad osare anche attraverso il digitale alcune pagine scomode della letteratura, non sempre percorse nei nostri programmi, nei nostri percorsi didattici, alcune volte schivate, perché è più facile leggere Rosso Malpelo di Verga, piuttosto che leggere Tentazione di Verga in classe in cui tre bravi ragazzi stuprano una giovane e poi la uccidono e la fanno persino a pezzi perché altrimenti non riuscirebbero a seppellirla in una buca e occultarne il cadavere. Ecco, è un po' difficile leggere queste pagine a scuola, ma il digitale ci può aiutare. Ci può aiutare nel coinvolgere i ragazzi in una sorta di coprogettazione, di co-working e chiedere a loro di produrre dei prodotti che partano da queste storie, dalla storia di Gertrude, dalla storia di Francesca e Paolo, dalla storia di Lucia, dalla storia della monaca di Monza ne ho già parlato, dalla storia di Casa di Bambola, dell'Ebisbetica domata di Shakespeare, dalla storia di Hera, la moglie di Zeus, così tanto angariata dal marito, o di Proserpina, rapita alla madre nella splendida scultura che poi dopo Bernini ha eternato. Ecco, noi proporremo di mettere al centro della loro didattica e del loro lavoro queste storie di donne tristi, maltrattate, che hanno cercato l'amore e non hanno trovato quello che in realtà cercavano perché sono state ingannate dalla natura, dalla cultura, dagli uomini, da loro stesse. Pensate per esempio a Emma Bovary. Davvero Emma Bovary si è suicidata? O non c'è una colpa, non dico del secolo, indirettamente del marito, del farmacista, di tutti coloro che hanno in qualche modo, le hanno consentito di sprofondare in questa cupa e triste ricerca di soddisfazione di chi è la colpa della morte di Emma Bovary? Ecco, noi vorremmo e proporremo ai nostri ragazzi di trattare questi episodi come episodi di cronaca, di scavare dentro, di usare le parole degli scrittori per leggere il detto e il non detto e l'alluso, che sono le cose più belle della letteratura. Cioè laddove le parole non sono nette, non sono bianche e nere, ma sono grigie, dove lo scrittore ha voluto lasciare intendere qualcosa e ha voluto che i lettori partecipassero all'ermeneutica del testo. Proporremo loro questi testi scomodi, proporremo loro di realizzare o delle copertine di questi romanzi, immaginando di riprodurli e di rieditarli per i nostri tempi, in base anche ai bisogni educativi dei nostri tempi, di produrre dei videotrailer, di produrre delle pagine web, ecco che qui entra in gioco il digitale, per riuscire a usare un linguaggio moderno per trattare storie non antiche, storie eterne, storie ancestrali, perché la domanda sul perché si ama, perché si soffre per amore, perché si sopporta per amore e fin dove ci si può spingere a sopportare e fin dove è giusto e quando è giusto, sempre è giusto, reagire a queste prevaricazioni, sono domande eterne a cui, scusatemi, non può rispondere il digitale, deve rispondere la letteratura. Hanno cercato di rispondere i grandi scrittori che stanno alle mie spalle e a cui io ho cercato di dare voce e cercheranno di rispondere i nostri ragazzi parlando il linguaggio moderno per far arrivare ai loro coetanei che magari non frequentano queste pagine un po' ostiche questo messaggio. Speriamo. Grazie a tutti.